Ciao a tutti, io sono in partenza da casa Sisal in direzione Los Angeles, vi volevo salutare e ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, è stato per me una dieci giorni veramente bella e emozionante, mi sono divertito, mi sono rattristato purtroppo per l'andamento dei miei due tornei, ma purtroppo nel breve periodo conta sempre la fortuna e devo ammettere anche che io non ho giocato il mio A-game, comunque sì è stata un'esperienza meravigliosa partecipare alle World Series, stare al tavolo con professionisti che fino a qualche anno fa guardavo solo in televisione e giocarci contro e rubarli anche qualche piatto è stata una bella soddisfazione. Adesso vado via, oggi è 23 giugno, parto con la mia ragazza in direzione Los Angeles per farci un giro dalla California che ci porterà fino a San Francisco passando per le varie spiagge Santa Monica, Santa Barbara, Venezian Beach, una vitaccia quella di noi giocatori di poker professionisti. Ho voluto sfruttare l'occasione del mio primo viaggio in America proprio per cercare di guardare un po' questo paese, ieri siamo stati sul Grand Canyon, abbiamo visto anche uno dei pezzi rimanenti dalla Route 66, che sarò a Venezia a fine mesi luglio e poi vedremo se ad agosto sarò in ferie o deciderò di partire per Mosca per gli EPT. Ho visto che comunque da quest'anno ci sarà sempre una tappa aggiuntiva di Potlimito Amaca in ogni edizione dell'EPT, quindi sicuramente ci farò qualche partecipazione in più. Basta, chiudi. Cisalpoker.it Un altro giro? Real poker, real fun.